Siamo a metà della manifestazione e sembra che l'evento stia riuscendo bene, che ci sia tanta gente in giro. Assolutamente, il salone è una certezza, c'è sempre il mondo che ci viene a trovare. Ogni anno scopriamo il mercato emergente, quest'anno potrebbe essere l'India, potrebbe essere la Cina che si conferma, la Russia, ma sicuramente tanta tanta gente. Ecco, ha citato Cina e India, ma il mercato europeo come si sta muovendo? Il mercato europeo, i dealer, i professionisti sono direi sempre quelli consolidati, quindi li conosciamo bene. Europeo è molto diverso da nazione a nazione, chiaramente la Germania è il treno d'Europa, la Francia per quello che ci riguarda è sempre più attenta al tema del letto. Magari in Spagna c'è qualche rallentamento rispetto ad altri mercati. L'Inghilterra si sta aprendo al design, nonostante abbia una tradizione più tradizionale, probabilmente perché ci sono anche molti italiani che si sono trasferiti per lavorare alla Borsa di Londra e hanno diffuso un po' il nostro piacere del vivere bene in un ambiente direi anche moderno. Per questo salone voi avete presentato tantissime novità, quali sono gli elementi salienti di tutti i prodotti che avete presentato? Guardi, il mercato dal 2009 in avanti si è stravolto, le esigenze sono cambiate moltissimo, il consumatore valuta molto di più prima di acquistare e quindi il prodotto nuovo è in grado di rispondere a queste esigenze molto meglio rispetto a un prodotto che magari è stato pensato in momenti più semplici. Noi presentiamo nove letti proprio per far fronte a tutta la clientela, quindi tutte le fasce di mercato. Abbiamo un primo prezzo da 1300 euro con un letto molto innovativo fatto da dei ragazzi di 25 anni fino ad arrivare al letto per esempio dove siamo seduti, dove si conferma la mano di Dordoni e in effetti c'è la valorizzazione di quelle che sono le capacità artigianali italiane, quindi la lavorazione del legno, la lavorazione delle cuciture nel tessuto.